Da scienzo, tratta delle bambine, abbiamo la mafia della pedofilia, della prostituzione, com'è la situazione in Ucraina? È un disastro e purtroppo i canali ufficiali sono molto preoccupati di proteggere la propria immagine che si tratti di Ucraina, di Russia o di altro. A me francamente non frega niente. A me interessa sapere che c'è gente che sta morendo di fame, di stenti, rinchiusa, soprattutto la più povera, quella che non ha la macchina per mettersi in avventura per cercare di fuggire. Sto parlando di gente che avanti ieri è salita sui nostri camion come carico bestiame per rinchiudersi in un cassone senza aria pur di allontanarsi quando eravamo andati a portare i viveri. Voi continuate nella vostra lotta contro anche la mafia russa, ricordiamo, no? E ricordiamo anche che c'è chi ha pagato per uscire fuori dall'Ucraina. Purtroppo sì, non è una regola ma capita troppo spesso che delle guardie ucraine alla dogana chiedano soldi, almeno questo avviene sul fronte rumeno per testimonianze dirette. Noi non ci fermiamo, non vogliamo fermarci, proprio ieri ho mandato a Emanuele lì da distribuire sulla frontiera tutte le associazioni coinvolte, una piccola app, sembra una stupidaggine, un di ciabbar da far fotografare le ragazze e le donne in fila, proprio perché diamo loro indicazioni, attenzione, non fidatevi, non chiedete passaggi, non accettate passaggi. L'appello ai terramani. Sì, siamo arrivati al punto in cui quando arriviamo sul posto con un nostro tir carico di alimenti, i vostri alimenti, quelli che avete messo insieme, che stiamo mettendo insieme, un tir è atteso da 5, 6, 7 tir vuoti di amici ucraini che vorrebbero distribuire e portare a destinazione, abbiamo una rete fantastica di ragazzi pronti a morire con le proprie macchine per caricare materiale, per caricare tutto il cibo, tutto ciò che c'è e portarlo a destinazione, andare a cercare le persone, quelle che conoscono, nelle varie comunità nascoste, anche nei villaggi. L'appuntamento è sempre al capannone della Gammarana? L'appuntamento è sempre alla Gammarana, a fianco alla pizzeria della stazione, è un capannone aperto tutti i pomeriggi dalle 15.30 alle 19, stiamo stringendo i denti per riuscirci ma soprattutto vi chiediamo di fare presto e bene. Io sono convinto che tanti di voi hanno già contribuito, sono convinto che state facendo tanto ma dobbiamo fare di più e bisogna mettere insieme tanta roba, riempire un tir e portarlo perché immediatamente c'è la distribuzione capillare e tanta gente viene alleviata nelle sofferenze e soprattutto sopravvive per vedere come finisce questa vergogna.